Minecraft is the right game to you Minecraft, mod is made Always no time to emancipate To creeper, come in mind deeper and deeper So I'm near, come catch up by a creeper Ciao ragazzi, sono qua Su Minecraft Sempre con questa VoIP Oggi siamo, come vedete, siamo su Minecraft 1.6.4 Giochiamo Allora, mettiamo VoIP 4813 Ok, e creiamo un nuovo mondo Oggi come vedete Sono anche in webcam E niente, adesso Aspettiamo che genere di nuovo mondo Eccoci qua Allora Che cacchia è quella roba Allora, rompiamo il solito Le torce belle Ok Ci facciamo più Ah no, posso neanche farmi lasciare Se posso Ok Allora Ci facciamo la spadina intanto Questo su, questo su, questo qua Questo qua e questo qua Ok Questo buttiamo su Traviamo Intanto ci facciamo la carnuccia Ciao Bel porcellino Mi dispiace Mi dispiace Amasciare Ma mi serve La vostra carne Grazie Allora Vediamo Un pochetto Fassiamo a vedere Che cavolo è quello Ah Cazzo Che costruzione Allora Porca vacca So che ci sono Dei diversi dungeon Che ho messo In questo Minecraft 1.2.4 Ciao vacca Vakca 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 No no Non c'è nel centro Dai Amazza D'accordo Vieni qua Ma Qua Dall'alto Vieni qua No 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 E' già finita la spada Allora Allora Ci facciamo Un'altra spadina Allora Stuzzicadenti Ci facciamo Un'altra spada Qua c'è un'altra La testa e campanna Boh Non so che cacchio Vabbè So curioso Andavamo a vedere Quella costruzione Grande là Intanto Anche se moriamo Non è una Gra Che è un dungeon Questo qua Ma che figata No no Stuzzi Andiamo Aia No 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 Non posso ancora Che cari Un dungeon Wow Andiamo A vadare Più avanti Ah buongiorno Signor Creeper No 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 State tranquilli Nessuno Vi vuole Male Questi qua Non so che capito Che cacchio sono Sono dispersi Dappertutto Comunque Potrei fare Anche se Infatti Allora Questo eliminiamo Non c'è Niente Allora Allora No Ok Ok Fat Non c'è Termina Letta Potremmo Que Sauber Così Si Non c'è Non c'è Ni O Pallare Quasi Non c'è La Spare Non c'è 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 spaccata questo ma che cavolo è una barca adesso visto è una barca ci parliamo qua sopra poi e che bug c'è una pianta una perla una perla ragazzi ragazzi una perla merda lì qua c'è la foresta solita ok allora quasi quasi ci facciamo qua nella nostra prima caso la ce lo cogliamo poca legna come sempre dobbiamo fare in questi casi ok tanto sto morendo di fame anche allora vediamo un pochetto se trovo se troviamo la eccolo qua questo facciamo prima ora apriamo per fare la fornace e per fare anche la spada ok ma se troviamo un po' di carbone anche non farebbe maglia però mi sa tanto il carbone non c'è beh ci chiediamo dopo il carbone tanto mi servirà per fare la bellissima fornace ci mettiamo un po' di carbone ci mettiamo un po' di legna e la nostra bella carne poi 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 che vuoi poi lo ti ammazzo poi lo allora abbiamo detto che volevo fare la spada e dopo ve lo farò anche lasciare in pietra ok allora il taglio di legno facciamo questa ok ci prendiamo il taglio di legno ok sono già dieci minuti cazzolino ragazzi sarei sono dieci minuti eh sì ok ok vediamo se è fuoto ok adesso qua 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 la lasso giù intanto pian pianino sta cominciando anche a venire la notte e ci devo fare sta benedettissima allora facciamo così ci facciamo una proprio qua per il momento provvisoria provvisoria allora facciamo un po' di legno ok per il momento basta ok per il momento basta ok per il momento ok per il momento è sicuro ok per il momento ok qua mi servirebbe però no no si c'è la torcia tanto per illumina qua dentro è benissimo lo diamo qua fuori ci facceremo ragazzi soprattutto ci faceremo un belletto ok ragazzi come la prima volta no adesso ci possiamo anche fermare qua e niente grazie ricordate di mettere un pollice in su di condividere commentare e alla prossima ciao a tutti c'è la stufa ok accendiamo qua grazie a tutti